Ancora nessuna novità sull'omicidio di Morseie, il 46enne senegalese, freddato ieri nel primo pomeriggio con quattro colpi di calibro .22 sulla spiaggia di Casal Borsetti, nel retro dello stabilimento adriatico. I carabinieri stanno vagliando diverse ipotesi sul movente dell'omicidio, seguendo anche l'ipotesi del delitto passionale o di un regolamento di conti. Seie, incensurato, è stato descritto dagli amici, che ieri hanno raggiunto la spiaggia disperati dopo aver scoperto l'accaduto, come una persona tranquilla. Era arrivato in Italia nel 1993 e viveva lì da Adriano, dove risiede anche il fratello, guadagnandosi da vivere come ambulante sulle spiagge. Gli inquirenti, dopo aver sentito una quarantina di persone tra familiari, amici e testimoni oculari, non sono ancora in grado di escludere con sicurezza nessuna pista, anche se si è scartata l'idea di un omicidio di stampo razzista o all'interno della comunità senegalese. L'arma non è stata ancora recuperata e la caccia all'assassino, descritto dalla carnagione chiara con capelli radi e brizzolati e la barba, continua.